Inizia oggi, in data 20 novembre, la miniserie della Miraglia Rai Cancelletto scomparsa, con Vanessa Incontrada e Giuseppe Zeno impegnato anche nel Paradisi delle Signore, video, rispettivamente nei panni di Nora Telesi e vicequestore Giovanni Nemi. Questi due nomi sono una garanzia per il successo della fiction diretta da Fabrizio Costa e composta da sei puntate dalla 500 alla 100 minuti ciascuna che si protrarrà fino agli inizi del nuovo anno. Vanessa interpreta una psichiatra infantile che si trasferisce da Milano a San Benedetto del Tronto con sua famiglia Camilla, ma ben presto quest'ultima scomparirà insieme alla sua amica del cuore, Sonia. Sicuramente sono alte le aspettative rispetto a questo nuovo prodotto che sfiderà, nella gara degli ascolti, l'inarrestabile programma condotto da Ilari Blasi Grande Fratello V. Chi vincerà la serata? Scomparsa è una serie tv con una trama avvincente e misteriosa che vanta un ottimo cast e ha tutti i presupposti per conquistare l'audienza? Veniamo ora alle anticipazioni della seconda puntata che verrà mandata in onda lunedì 27 novembre in prima serata su Rai 1. Nora Telesi riceve una chiamata da Riccardo Trasimeni. Ecco cosa succederà. Le anticipazioni ci rivelano che durante il secondo appuntamento il mistero si infittirà ancora di più sulla scomparsa delle due giovani adolescenti. I sospetti ricadranno su Riccardo Trasimeni, padre del giovane Arturo, che la sera prima della scomparsa fu visto insieme alla figlia della Telesi. Perché quest'uomo avrebbe rapito la giovane Camilla e la sua amica Sonia? Presto verremo a conoscenza di un importante indizio nel passato di Nora fu quest'ultima che, tanti anni prima, tolse la patria potestà a Riccardo per maltrattamenti a danno di suo figlio Arturo.L'uomo presto si farà vivo con Nora attraverso una chiamata con una radio locale e le sue intenzioni saranno subito chiare. Alla donna vuole vendicarsi per quel torto subito e riavere indietro suo figlio. Come andrà a finire la vicenda? Per scoprirlo non ci resta altro che seguire i prossimi appuntamenti. Per restare aggiornato sulle anticipazioni delle prossime puntate clicca sul tasto segui in alto all'articolo.castecogliattori.com Già detto precedentemente il cast è eccezionale cominciando dagli attori protagonisti Vanessa Incontrada e Giuseppe Zeno. A chiudere il cerchio vi sono Euridice Axien impegnata anche nelle tre rose di Eva 4, video, Elisabetta Pellini, Simon Grechi, Federico Russo, Saul Nanni e tanti altri. Cancelletto scomparsa anticipazioni.